Ciao ragazzi, benvenuti nel canale YouTube, io sono Tommaso Codolo e questo è DaVinci Resolve 14. Dopo tutte le email e tutti i messaggi che mi avete mandato, siamo giunti finalmente al momento di parlare di timelapse e di nightlapse con DaVinci Resolve. È un argomento facilissimo da sviscerare, quindi sarà un tutorial veramente molto molto veloce. Già vedete qui nello schermo il nostro DaVinci Resolve, ma ci spostiamo prima di tutto nella tab media dove andremo ad inserire i nostri file. Un timelapse non è altro che un insieme di fotografie che possono essere fatte o dalla nostra GoPro o da qualsiasi telecamera voi abbiate, con un intervallo di tempo che andrete a decidere voi, che poi andremo ad unire per andare a creare un unico video di quell'evento, ovviamente che sarà velocizzato all'interno di pochi secondi, magari anche una giornata di timelapse in 10 secondi di video. Ma vado alle ciance e vi faccio subito vedere come funziona, andiamo a recuperare immediatamente la cartella dove abbiamo il nostro timelapse, è H5Timelapse02 e qui ho le singole foto, vedete, 1, 2, 3, 4 e mi sposto avanti con le varie fotografie. Non andrò a prendere la singola fotografia, ma prenderò semplicemente la cartella e la andrò a spostare all'interno della mia media pool. Vedete che non ha spostato una cartella, ma ha molto più semplicemente preso il file e lo ha importato come se fosse un singolo file. Calcolate che l'immagine che viene riprodotta è un 4000x3000 a 24 frame al secondo in questo caso, ma 4000x3000 quindi vuol dire praticamente un Ultra HD, un 4K, quindi farò veramente fatica a riprodurlo, soprattutto su questo computer che è un MacBook Pro portatile. E vedrete che appunto va a scatti in questo caso. Cosa faccio? Mi sposto nella tab Edit, ma lui ha già creato praticamente il nostro file. Mi sposto su Media Pool di modo che possa vedere il mio file e lo vado a portare qui nella mia timeline. In questo caso il file sarà veramente, veramente scattoso e sarà anche alquanto difficile andare ad utilizzarlo. Ma se avete visto il tutorial precedente avrete capito come si fanno ad utilizzare e a creare gli optimized media. Al massimo qui da qualche parte sullo schermo troverete un link dedicato al tutorial di cui vi sto parlando. Andiamo su Project Settings, andiamo al volo al volo a gestire i nostri optimized media. Creo il mio optimized media e attendo la renderizzazione del 100%. File ottimizzato e pronto all'uso. Come vedete è diventato fluidissimo. Mi interessa però velocizzare leggermente questo file che vedete è un po' troppo lento. Quindi vado a dargli un Retime Control e da 100% Change Speed del 200%. Così almeno l'ho velocizzato un pochino. Play ed ecco qui il nostro timelapse. Vedete che abbiamo ancora le bande laterali nere. Quindi in questo caso per andare ad eliminare le bande laterali nere andrò a utilizzare questo pulsante che è un Trasforma e andrò ad allargare la mia immagine fino all'aspetto desiderato. Magari mantenendo un terzo per il terreno e due terzi di visualizzazione dell'inquadratura per il cielo. E questo sarà il risultato finale del nostro timelapse. Lo vogliamo ancora più veloce? Basterà andare qui e andare a velocizzare ulteriormente. Vedete che sotto si sta aumentando. Eravamo al 200%. Mi porto al 275% di velocità di percentuale. Ed ecco le nostre nuvole che si muoveranno ancora più veloci. Bene ragazzi. Con questo timelapse abbiamo fatto anche questo tutorial riguardante DaVinci Resolve 14. Spero vi sia stato utile. Se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici. Se vi interessano altri tutorial iscrivetevi a questo canale. Seguitemi sui miei canali personali di YouTube e di Facebook. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buon editing. Ciao a tutti!